Il buon sbrizer, il tuo nome di battesimo, non il cognome ovviamente, ma il nome di battesimo si può dire, no? Sì, Francesco. Il buon Francesco oggi mi fa da cavia, ovvero il primo che passa sotto le grinfie dello Zerga Podcast. Che semplicemente non è che una chiacchierata di un'oretta che faremo con qualche domanda. E l'obiettivo è quello di farvi conoscere uno sbrizer diverso un pochettino da quello che magari siete abituati, no? È molto diverso, è molto diverso. Cioè, se così, va bene, cominciamo già. Comunque, io sono Zergantis, per chi non lo sapesse, mi occupo, sono un variety streamer, anche se la gente si ricorda di me principalmente per Genshin Impact. E porto sia su YouTube, sia su TikTok, sia qua su Twitch, contenuto variegato. E partiamo con le domande. Innanzitutto io e te, faccio una piccola premessa, io te ci siamo conosciuti in una maniera stranissima. Poi quelle cose dal destino, no? A Trapani, in una fiera un po' particolare, nel senso che è più vuto... Un po' una palude piuttosto che... perché pioveva, c'era bango, era un po' caldo pure, c'era perché... Di tutto è successo. Però è stata una bella fiera. È stata una bella fiera bella. E ci hanno messo nella macchina di ritorno sotto la pioggia. Ci siamo sparati quante? Quattro ore, cinque ore ad aspettare... Abbiamo cenato assieme, praticamente aspettavamo all'aereo. Sì, sì, praticamente, sì, sì, sì. Abbiamo avuto tanto tempo per chiacchierare, insomma. Per chiacchierare. Per raccontarci i nostri cazzi. Eh sì, così. No, i nostri sogni, i nostri disidei. No, i nostri cazzi. I nostri cazzi. D'accordo, io sono di Genova, ragazzi. E quindi io sono rimasto piacevolmente sorpreso perché comunque sei molto giovane ma avevi già le idee ben chiare. Sei uno che ascolta e questa è una delle cose che io apprezzo molto di più. Nella vita, soprattutto per persone giovani come te, ho detto no, io lui lo devo invitare e devo fare assolutamente. Devo far vedere al mondo quello che ho visto io davanti a quel supplieco, la pizza. Quindi, chi sei, dove nasci, presentati. Ah, proprio così, proprio dal principio. Dalle fondamenta. Allora, mi chiamo Francesco, ho 21 anni, sono nato a Palermo nel 2001 perché facendo un paio di calcoli ci si arriva pure. Sì, sono nato a Palermo e principalmente di quello mi occupo di YouTube. Quindi ho un canale, anzi in realtà due canali, dove porto Minecraft, Roblox. Ora da poco ho iniziato con le reazioni, con le reaction, quindi sì. Principalmente sì, questo è quello che faccio. Ok, quindi tu hai come main content, quindi attualmente, anche se ti stai evolvendo, quello del Minecraft Roblox. Ma lo fa in una maniera che, diciamo che è un po' di, un po' meno canonica, mainstream. Dimmi, 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 dimmi. È proprio, allora, per lo più è una moda che va avanti da un sacco di tempo. Ovvero quella del roleplay. È un po' come 5M, no? In roleplay, solo che logicamente per stare nei termini di YouTube, eccetera, eccetera, è in stile family friendly. Lì è all'interno di Minecraft, perché è un gioco di tendenza su YouTube. Cosa che purtroppo non è più GTA V, almeno, per nel 2023. Però, sì, principalmente quello che faccio io è praticamente crearmi delle storie all'interno di Minecraft. È quello che praticamente faccio da, ormai, dal 2017. Lo faccio quindi da tanti, tanti anni. Quindi, proprio me le strutturo, creo una trama, ho dei miei collaboratori che mi aiutano, che è a doppiare magari alcuni personaggi. Insomma, la cosa difficile, principalmente, a parte la preparazione dei video, è il ritrovamento delle idee. Perché, logicamente, o ti metti un po' a navigare su internet a vedere qualche contenuto che magari potrebbe un attimo farti piacere da, magari, prendere spunto, oppure ti crei delle storie in mente. Però devi farlo praticamente ogni giorno. Quindi ogni giorno devi creare nuove storie, nuove idee, e di conseguenza, sì, diventa un po' un creare sempre un cartone animato, alla fine. Ma tu, scusa se ti interrompo, a te a scuola ti piaceva scrivere storie? Cioè, tu ti sei ritrovato... Allora, ero molto bravo nei temi, ero molto bravo nei temi. È qua che volevo arrivare. Cioè, tu ti sei ritrovato, quindi nel 2017, a 16 anni, se non sbaglio, quindi ti sei ritrovato a dire mi piace tanto il roleplay, mi piace scrivere delle storie, quindi penso che comunque anche a scuola fossi bravo nei temi, fossi bravo e ti piaccia la condivisione, perché se no non staresti qua, e hai deciso di sfruttare Minecraft, che ti dava questa opportunità, per creare queste tue storie. Sì, esattamente. E poi, per lo più, io ho iniziato YouTube proprio come al modo di Favij, proprio, perché io avevo praticamente... Quando io ho iniziato YouTube avevo 15 anni, 14 anni, già i tempi avevano... C'erano praticamente degli YouTuber assodati, capito? C'erano i mates, c'era il trio, tra l'altro, c'erano Dexter, che faceva tanti numeri ai tempi, Favij, che era esploso e io ne ero un fan accanito, e di conseguenza principalmente ho iniziato, no, a prendere un po' da lui. Certo, ti sei ispirato a loro, ti sei, insomma. Sì, mi sei ispirato a lui per gli indie, perché portavo ai tempi anche indie, e poi un po' di Minecraft, perché seguivo anche i tempi di look 43-16, di conseguenza portavo Minecraft, portavo un po' a caso. Poi però mi sono stanziato nel 1917 perché mi esplosa appunto una serie che mi ha fatto un successo che non mi sarei mai aspettato. Dopo tre anni a fare tipo meno di 100 visualizzazioni a video. Certo, no, 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 ma quello che mi interessava a me era proprio il capire la scintilla dove ti è partita di invece che metterti a fare facciamo survival mega costruzioni, che magari le hai fatte, per l'amor di Dio, però facciamo hardcore, vedo quanto resisto ad hardcore, faccio... Invece ti sei buttato probabilmente perché hai una vena comunque artistica tua, no? Ma allora in realtà ti per dirti, ad esempio nelle parti roleplay, che è quello che mi ha fatto più successo, principalmente è stato un conseguirsi di crescita anche personale, perché ho iniziato a imparare meglio l'inglese, a capire meglio alcune cose, e in quanto a imparare bene l'inglese ho iniziato a guardare tanti contenuti magari esteri, che già l'America è un passo molto avanti rispetto a noi in termini di contenuti, molte delle cose già sono state create, praticamente ci sono poche cose che bisogna ancora creare, e diciamo che già le roleplay erano qualcosa in America, e io mi sono andato a vedere, a spulciare un attimo i canali esteri perché ho scoperto che al di fuori dell'Italia c'è un mondo più grande. E noi ne abbiamo parlato un sacco in macchina dell'estero, dei viaggi, della mia esperienza anche a Dublino, insomma ne avevamo parlato, e infatti eri molto curioso di questo. Sì, sì, sì. Quindi insomma un po' la curiosità, un po' probabilmente un tuo talento innato, e un po' anche il colpo di fortuna, ti hanno portato a un certo punto a dire, mamma, papà, mi sa che io foglio lo youtuber. Ma guarda, in realtà non è stato proprio così, perché diciamo che tutto è iniziato con una critica, principalmente da parte di mia madre, che mi diceva, fra ovviamente devi studiare, hai 15 anni, queste cose falle, ma falle a tempo libero, e io invece purtroppo gli ho detto, guarda mamma, hai ragione, però io voglio fare questo, ma logicamente ti devi dar ragione, perché ai tempi mica c'avevi veramente dove poterti affidare, ok, ai numeri o a qualcosa del genere, non potevi magari tipo dire a tua madre, mamma voglio fare questo, e basta. Quando gliel'hai detto mamma voglio fare questo, su che numeri eravamo più o meno? Se te lo ricordi, eh. No, per lo più io l'ho detto sempre fin dall'inizio, proprio da quando inizio il canale YouTube, proprio c'è, io ero proprio fissato, capito? Gli volevo... Ok, quindi non avevi un piano B, tu hai fatto un po' come abbiamo fatto, meglio no. No, vabbè, il piano B ce l'avevo, il piano B ce l'avevo, che era ovviamente andare a lavorare con mio padre, perché appunto conseguivo il diploma di perito elettronico, di conseguenza era tutto uno step per arrivare a darmi una mano appunto. Ok. Perché mio padre fa tipo automazione navale, quindi... Ok. Le loro robe elettriche, insomma. Sì, sì, sì. E io le ho detto... io non avevo... cioè, soprattutto entrando in su, dalle superiori, in primo superiore, ho visto di cosa parlavano e per me erano geroclitti. Ok, 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 ok. Erano cose che non capivo, di conseguenza ho detto sì, volevo già subito fare qualcosa di diverso. Però logicamente il piano B devi avercelo, perché altrimenti almeno, secondo me, secondo me la modesta opinione, oggi un diploma... cioè, la laurea serve oggi, pensare che un diploma... cioè, secondo me un diploma serve ancora di più, oggigiorno. Sono d'accordo con te. Ovviamente è la strada che vuoi percorrere. Tu, tu oltretutto, hai... essendo un'età diversa dalla mia, tu, oltretutto, hai visto l'evoluzione di quello che era poi YouTube in un tessuto sociale che era già... aveva già ticchito un po' le radici, cioè, non era... Sì, 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 sì. Quindi, la tua generazione è quella che poteva, se aveva abbastanza coraggio e forza, e questa ce l'hai avuta, mettere un po' i piedi per terra e dire, ma, pa, voglio fare questo... Ci metterò un po' di tempo... Ci metterò un po', però, ecco, gli hai proposto un piano, comunque hai detto, guarda, io ho un piano. È come quando si fa il capo, no? Quando vai in azienda, no? Gli dici, capo, io voglio arrivare, ho questo obiettivo e questo è il mio piano di investimento, no? Questo è... se tu fai un lavoro di questo tipo, a parte che te noti una maturità devastante, ma poi anche i tuoi genitori, che comunque si vedono che sono di fronte a una persona che ha le idee chiare, e quando tu sei di fronte a uno che ha le idee chiare, non lo fermi, eh, lo fai andare. Allora, non voglio fare qua, tipo, la persona che ha capito tutto quanto della vita, perché ci sanno tantissime cose che ovviamente non ho capito. Per lo più, al momento, eh, tempo fa, eh, avevo capito solamente che c'era una possibilità. Certo. Che ci riuscivo, non ci riuscivo, questo, alla fine, non mi importava più di tanto, perché tanto, eh, se ci riuscivo bene, se non ci riuscivo sti cavoli, ci ho provato, almeno ci ho provato. Ok. Potevo andare avanti, almeno nel senso di poi, dire, ok, almeno ci ho provato. Non, eh, non posso, insomma, dire che non ci ho provato. Io non volevi avere rimpianti un domani, quando magari era troppo tardi. Esatto, esatto, senza avere gli impianti, senza proprio che, eh, quindi ci ho provato e vediamo che, eh, con tanta fortuna sicuramente, ma soprattutto tanta costanza e tanta voglia di imparare, perché è un lavoro che, come in ogni lavoro, per farlo al meglio, devi imparare, devi ascoltare, devi capire, i ragionamenti, devi imparare, anche degli sbagli che hanno fatto magari altre persone prima di te, perché questo pure è anche un grande aiuto. Quello che ho avuto io, proprio, della mia generazione, è il fatto che magari, infatti, come hai detto te, c'erano già dei creator che avevano, no, attecchito, avevano già, eh, un po', non dico saturato YouTube, ma quasi. Eravamo, anzi, allo splendore proprio massimo YouTube di 2017-2018, era lì. Era praticamente una bomba... Sì, 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 no, 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 è vero, è vero, è vero, è vero, intanto io ringrazio tutti i ragazzi, scusate se non vi ringrazio per le sub, e per... salutami, ti vogliono tutti salutare. Grazie, ragazzi, salvatevi. Grazie di quello, ragazzi, scusate se magari non rispondo, ma rimanete in chat, vi vedo, e nel caso poi dopo vi riprendo, ma non volevo... Grazie mille, grazie mille per i 21. Ora, abbiamo assodato che sei, come dicevo io, e io è una roba che ho sempre detto, quando sono tornato io da Trapani, sono andato da tutti quelli che ho conosciuto, ma sapete che ho conosciuto un ragazzo che... Ah, proprio, sei andato in giro? No, no, io, 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 io diventerò il tuo agente, sappi che tra un po', quando ho, eh, diventerò il tuo agente, prima o poi sappilo, mettete... Ah, no, 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 al di là di quello, e il mio obiettivo era, a parte quello, volevo entrare un po' più nel discorso francesco, no? I capelli bianchi. Spiegami, 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 ma perché non sei solo, conosco altri anche della mia community, che un po' per gli anime, un po' per alcuni Tokyo Ghoul, altri per alcune cose, hanno la passione per i capelli bianchi. Spiegami perché cosa rappresentano per te. No, io non ho nulla di tutto questo, cioè, nel senso non è... Estetica! No, no, sì, per lo più a me piacciono i capelli bianchi perché... Non saprei spiegartelo, cioè, semplicemente li ho provati un giorno, tra l'altro, quando li ho provati la prima volta, era perché ero arrivato ad un traguardo, se non sbaglio, tipo i 2000 sub di Twitch, perché i tempi facevo le live, no? Sì, sì, sì. E... è arrivato a questo traguardo e ho detto, bene, cosa faccio? Devo trovare un qualcosa, magari. Eh, io fatti in blu. Tipo ai 1000, ai 1000, esatto, ai 1000 ero, mi ero tipo fatto tipo dei orecchini. Ok. Che ormai non uso più, tra l'altro i buchi stanno richiudendo. E poi... Hai fatto i capelli bianchi, hai fatto i capelli bianchi, dici? E poi hai fatto i capelli bianchi, sì, esattamente. Però ti sono piaciuti? E hai detto, li tengo. Esatto, cioè, mi sono piaciuti, ho detto... Ma sai che forse, forse me li rifaccio, anche se non arrivo a premia a sub. Ok, ok, ok. Che poi ho smesso. E quindi ho detto, ma, facciamoci. No, 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 a differenza di tante altre persone, no, no, non li ho presi tipo da... No, vabbè, ma io volevo cercare il significato profondito e recondito, no? Il dolore che ti attanagliava. Ah, sì, no, praticamente i capelli bianchi è per una... Per quel ricordo. Esatto. Esatto. No, no, in realtà, perché mi piacciono... Ah, vabbè, vabbè, a volte le risposte più semplici sono anche quelle più efficaci, nel senso, quindi non... Esatto. Non... Tre parole unite, punto, basta. Sì, esatto. Eh, senti un po', molti non lo sanno, ma tu hai una passione per un animaletto. Ah, sì. Che è un po' diventata la tua mascotte, no? Che è il tuo pappagallo. Ma l'haki conta che ci sta dall'inizio proprio del canale. Guardalo, eccolo lì, eccolo lì. Guarda che carino che è. Sì, sì. E tu mi hai raccontato un sacco di cose. Raccontami un po' quello che mi hai raccontato a me. Anche quando ti sposti, le problematiche... Guarda che, ragazzi, non è facile. Ah, sì, 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 sì. Parlami un po'... Parlami un po' di l'haki. Per lo più, principalmente, dato che mi sono spostato a Milano, era logico capire un attimo come portarmelo da presto, perché io con l'haki praticamente ci campo, ci faccio giorno e notte con l'haki. Già è tanto che non ci dormo praticamente a fianco nel cuscino, perché poi mi ritroverai tutto smerdato, quindi è meglio magari evitare. Però, eh... L'haki non piace questo elemento. Ma, eh, certo, a lui non gli importa se gli metti chi è la merda. Vabbè, i dettagli comunque. Quindi, dovevo capire come portarmelo, appunto, a Milano. Sì. E il problema delle compagnie aeree, purtroppo, è che, logicamente, è logicamente un cazzo, cioè, per lo più, in maniera completamente anarchica, purtroppo non portano, non vogliono portare i pappagalli a bordo. Ma nessuna compagnia aerea, né tantomeno i terwais, se non, tipo, con, non lo so, un documento, tipo, sanitario, attestato dal, cazzo, non ne so, dal... Loro vogliono assicurarsi che non porti determinate malattie, quello è un po' il problema. Esatto, esatto. E quindi ho dovuto fare un giro tremendo, perché sono partito da Palermo, sono andato a Barcellona, e poi da Barcellona sono andato a Milano, perché, semplicemente, c'era l'unica agenzia aerea che collegava tutto così e che aveva, potevi portare i pappagalli, che era Welling. E, tra l'altro, le persone, quando ero a Barcellona, anche quelli che magari stavano nei gate di Welling, gli era strano vedere un pappagallo che prendesse un aereo, perché, effettivamente, oggettivamente, parlando, un pappagallo che prende un aereo per volare in un'altra zona già fa ridere così, quindi, diciamo che... Le avventure di Lucky, Lucky, dove siamo andati? A Milano, ma dove siamo passati? Dalla Spagna! Esatto, esatto. Tra l'altro, in realtà, era l'inverso, perché era da Milano a Palermo, quindi Milano... Ah, esatto, e quindi sei andato ancora più lontano, per poi andare... Assurdo. No, 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 principalmente, quando sono andato a Milano, ci sono andati in traghetto, abbiamo fatto 24 ore di traghetto e lì non ti fanno problemi di animali, mi sopportato pure la macchina, avevo anche dei vestiti da portarmi, insomma, mi sopportato tutto, tra cui anche Lucky, l'ho sfruttato dall'occasione, però, non avendo ancora dei documenti medici per i tireways, così che, appunto, potessi fare diretta la tracta Milano-Palermo, ho dovuto necessariamente utilizzare una compagnia estera, come Welling, che è spagnola, e dove sono andato a Barcellona, sono finito a Palermo, cioè... Ma... È un disatto. Camminate, camminare io con il pappagallo sopra il trolley e intanto tutte le persone... Che ti guardavano. Perché era tipo, boh, c'era tipo Harry Potter che portava, capito, il gufo in giro, che era tanto che non mi ero... Stavi andando all'Hogwarts. Non mi filavo nel binario 9,3, quasi, capito. Sì, eri all'Hogwarts del Sud, quella un po' più calda, con il pappagallo al posto del gufo. Esatto, un po', un po' più, capito? Un po' più esotica. Un po' esotico, esatto. Noi non facciamo la magia, facciamo il voodoo. Però, ecco, ora, Lucky, quante... Ora, parliamo ancora un attimo di Lucky, perché secondo me è una figata, perché io, per dirvi, ho un gatto che si chiama Perla, molto anziano, ha 18 anni la mia gatta, e sto sempre lì, che quando posso me la sbaciucchio. Però, non l'ho mai, tra virgolette, fatta vedere... Eh, si vede, non l'ho mai... Non la faccio tanto vedere live, o robe del genere. Comunque non è parte integrante del processo creativo, magari, del mio lavoro. Per te, Lucky, invece, è parte integrante del tuo processo creativo, o semplicemente... Sì, sicuramente sì. Allora, se ti dovesse essere sincero, sicuramente perché è un marchio, un po', perché, ad esempio, nel logo mio, il mio logo, che è, appunto, tipo la S con le due piume, è riferito a lui. Ah, è riferito a lui, ok, ok, ok. Sì, sì, ci stanno le piume. Poi ho avuto per tantissimi anni un banner che proprio era bellissimo. Era praticamente un banner disegnato dove c'ero io, ok? E Lucky, tipo, versione Drago, che tipo lo cavalcavo volando. No, era molto bello il banner, tipo, veramente bello. Bello. Bello, no, no, questa è una parte molto bella. Per lo più inerente al merchandising o inerente, appunto, alla persona che sono io, ad esempio la skin di Minecraft, nella testa c'ho la sua faccia. Perfetto. No, no, ma comunque chi denota amore verso gli animali ha comunque anche una sensibilità differente rispetto, magari, a chi tendenzialmente non... Assolutamente, guarda, io da quando ho un pappagallo, quindi quasi praticamente è più della metà della mia vita, ho ricevuto una sensibilità tremenda per quanto riguarda i volatili. Ma in una maniera... Eh beh, certo. Ti giuro, io... Capisci i loro bisogni, capisci... Cioè, essendo tu anche più esperto, capisci un po' tutto quello che è... Ma anche una cosa che, capito, che ne so, proprio si avvicina, capito, a un volatile, eh, che ti dà l'impressione, che ti dà un leggero anche ricordo... Io lo vedo, che ne so, tipo, spiaccicato per terra perché hai passato la macchina... No, no, certo. Beh, ti piglia male. Anche, anche che ne so, girano su TikTok i video bruttissimi, che cacchio ne so, di volatili che, non lo so, vengono polverizzati sopra le rotaie, capito? Ste cose qua. Per fortuna. No, io lì ti giuro non riesco a guardare... No, 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 ma lì ti capisco, lì, la crudeltà verso gli animali è... Ci sono persone che, tipo, invece, tipo, ad esempio, guardo un mio amico... Cioè, avevo visto tempo fa un mio amico che guardava e se lo guardava per intero. E io dico, ma come cazzo fai? No, 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 sono cose che anche io con i gatti soffro a vedere certe sceme... Infatti non le vedo più. Prendiamo un attimo sui videogiochi, ok? Quindi facciamo un attimo uno step indietro. Minecraft, Roblox... Ma io mi ricordo che mentre eravamo in macchina mi gira e ti faccio... Ma giochi anche a qualcos'altro o giochi solo a quello? E a te ti ci ha aperto un mondo. Per chi mi ha detto, no, no, io gioco a tante altre cose. Quindi, è il tuo momento. La cosa brutta è che, logicamente, le persone pensano purtroppo male. Sì, sì. Del fatto che magari youtuber o chi magari porta solamente quel gioco, allora gioca solo quel gioco. Non è vero, no, no, no. Allora, secondo me, dipende. Dipende da veramente come lo porti anche Minecraft. Perché se in Minecraft te lo porti a mo' di vanilla, ci sta che magari passi tante ore nelle vanille e quindi giochi tante ore off camera per le vanille, no? Sì, sì, sì. Io, per quanto riguarda, invece, è completamente un'altra storia perché creo le storie, quindi 20 minuti, due ore, il video, 20 minuti registro su Minecraft. Sì, sì, è un altro utilizzo di quello, certo. Sì, sì. E quindi, logicamente, avendo più tempo a disposizione per giocare magari altri giochi, soprattutto l'occasione per giocare altri giochi, anche perché io, diciamo, ho proprio la passione della nerd cultura, quindi di giocare i giochi del momento, i giochi di tendenze, i giochi più importanti che hanno creato magari, che hanno rivisto un po' una generazione, magari, appunto, giochi nostalgici, nostalgici che hanno un po' creato i videogiochi. Dammi dei nomi, dai. Cosa stai giocando in questo periodo? Così almeno facciamo degli esempi. Vabbè, a parte che sto per finire, appunto, come ti avevo già detto prima, in Off-Live, in Final Fantasy XVI, ad esempio, sto giocando al momento Dead Island. Ok. L'uno? No, 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 il due. Il due. No, perché ho visto che principalmente, cioè, alla fine è sempre la stessa storia. No, 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 guarda, sì, sì, sì. Non sono andato più di tanto avanti. Ok. Stavo, mi stavo giocando, mi sto giocando anche, come si chiama? Quello russo. Paper, please? No, 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 questo è un gioco russo. Atomic Arts. Atomic Arts, esatto, esatto. Ti giuro, a me è bello, eh. È bello. C'è l'universo proprio di questo gioco. L'ambientazione è molto... Quindi ti attira con l'ambientazione un pochettino... What if? Cioè, se la guerra l'avessero vinta loro. Sì, sì, sì. Ma io volevo provare a vedermi, sei tipo, non so se conosci la serie, è la serie quella, L'uomo sull'alto castello, The Man in the High Castle. No, mi manca. È una serie, è sempre tipo What if? Se i nazisti avessero vinto la seconda guerra mondiale. Sì, 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 per esempio. Allora ho capito quel genere. Quindi comunque ti piace anche la storia, no? Cioè, ti attira... Sì, 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 mi attira tantissimo la storia, tutta quella che potrebbe essere. Ma in generale, io quando inizio a giocare giochi perché mi vedo in maniera competitiva inizio ad odiarmi. Proprio inizio ad essere tossico e non mi diverto più. Come a me. Dopo una certa, secondo me non è più divertimento, inizio ad essere più un dovere che lo fai per... Non si sa. Però ti posso porre una domanda riguardo a questo? Cioè, Tu sei attratto dal... Comunque dal gioco competitivo oppure il fatto che quando tu fai un gioco competitivo poi cominci a odiarti ti fa anche desistere dal provare un gioco competitivo? Perché io sono attratto. Perché io sono come te, eh. Io sono estremamente attratto. Ho giocato tanto a LOL, ho giocato tanto a Google, però poi divento tossico all'inverosimile. Però la voglia ce l'ho. Ah, credo che sia comunque il problema di tutti quanti, quelli che giocano a questi giochi. Ovvero che ne sono attratti perché logicamente c'è le skin che ti diventano un po' tipo no, come tipo de... No, il gioco è bello. Magari merita anche il gioco. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Però principalmente io ne sono attratto non per un fattore personale perché mi piace essere il più forte. Ma perché semplicemente so che a quei giochi potrei giocarci con i miei amici. E di conseguenza giocandoci con i miei amici dico, ok, ci giochiamo. Ma poi logicamente più ti diverti con i tuoi amici più ambisci a essere più forte perché è una cosa, capito, inconscia il fatto che vuoi essere necessariamente diventare il più forte in quel gioco, magari con i tuoi amici imparare dagli errori anche perché poi si instaurano anche delle belle discussioni tra i tuoi amici quando parli veramente a dei giochi che capisci bene ti piacciono e li condividi con loro. E di conseguenza si instaura tutto quel rapporto che poi però a me non mi piace che va a finire quasi sempre almeno per il mio verso a comportamenti tossici al fatto che inizi un po' a stare non mi piace a me piace di più magari godermi un gioco perché mi devi insegnare qualcosa per la trama e perché magari culturalmente parlando potrebbe essere anche tanta trama nel periodo in cui stiamo noi. Io tratto principalmente i giochi soprattutto per questo momento. Giochi single player quindi giochi single player magari story drive io purtroppo ho la brutta abitudine credo che almeno da qualsiasi cosa devo trarre un insegnamento ok ma non è una brutta abitudine cioè no perché perché magari le persone pensano che tipo non lo so uno veramente non si diverte e lo fa no perché è come se stesse andando a scuola però a me principalmente piace non lo so il fatto proprio di imparare da qualcosa sempre ok qual è il tuo ora vabbè non voglio non penso sia Minecraft magari lo è però il gioco che ti è piaciuto di più e il gioco che ti ha insegnato di più quali sono dei due Assassin's Creed sicuramente è quello che ti è piaciuto di più o che ti ha insegnato di più un po' entrambi perché un po' per quanto riguarda la storia te la fa un po' amare perché ti mette logicamente nel la storia non intendo la storia della saga ma intendo la storia proprio in generale no perché logicamente vai indietro nel tempo con il tuo personaggio di conseguenza ti riesci in un certo senso ad amare no la situazione poi soprattutto la Ubisoft è bravissima a fare gli open world e di conseguenza riesce proprio a farti amare il contesto te lo fa vivere a pieno quindi se domani io ti dicessi prendiamo un biglietto e andiamo a Gerusalemme oddio lì dobbiamo un attimo capire a fare il salto della fede dell'aquila sudà dalle cattedrali vabbè magari magari speriamo che ci bagghiamo anche come un gioco della Ubisoft così che non ci facciamo male sai che io ci sono stato a Gerusalemme io ah si nel 99 mamma mia città incredibile eh ho fatto sì ah proprio perché viaggiavi sì 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 è stato una città incredibile ma già hai ripetuto i tuoi no al 99 avevo 12 anni ah ecco infatti no no ho detto quanti cazzo di amico no coi miei coi miei sì vabbè dove andrà scusate ho 12 anni ma devo andare a chiudere ho il target ha genuto l'M poi si hitman cazzo di amico cazzo di amico no 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 però però Assassin's Creed non è una brutta risposta perché effettivamente racchiude un pochettino tutte quelle due cose che che dicevamo e e questo sfatta anche un pochettino un mito no quello che spesso la gente pensa che se tu sei un creator che porta perché magari la saga gli va successo o perché magari è interessato a quella sfatta magari un gioco principalmente un tema e basta in verità magari hai ti piacciono davvero tanti altri giochi anche altre cose quindi ragazzi non è sempre non è sempre monotematico ho detto a me a me proprio a passione in generale è la nerd cultura quindi tutto ciò che è pop cult ok manga anime ecco bravo bravo parliamo di manga parliamo di manga e anime ok allora lì sono un po' più messo me peggio ok sono un po' messo peggio ma nessuno qua ti fa l'esame non ti preoccupare no ma no ma vai tranquillissimo guarda veramente tranquillissimo intanto vabbè salutiamo tutti quelli che arrivano che si stanno iscrivendo eccetera eccetera ma allora season estiva hai cominciato qualche anime in questa season estiva o c'è qualche anime ultimamente che stai guardando che ti è piaciuto tanto allora ultimamente per lo più mi io mi nel mio corso dell'anno mi divido tipo l'anno o gioco solo ok o guardo solo anime o leggo solo manga ok non raramente faccio tutte e due perché spesso e volentieri non riesco proprio con il tempo ti capisco però perché ad esempio se esce un gioco della madonna chi dura capito quelle 30-40 ore è certo preferisco logicamente focusarmi in quel gioco specialmente in un periodo in cui ne escono a balanga bellissimi diciamo che è un po' un problema però per quanto riguarda gli anime ad esempio mi sto recuperando One Piece che sono che vabbè mi sto recuperando One Piece l'ho iniziato quindi praticamente ci vedremo nel 2027 quando ti racconterò la mia la mia avventura di com'è effettivamente andata ok va bene chissà quando lo finirò capito ma chissà quando lo finirà anche Oda cioè non lo sappiamo che il primo che lo dico facciamo 2030 allora quindi One Piece ultimamente sto guardando ho visto mi stavo finendo Shinoko però alla fine non ci sono riuscito cioè me lo sto guardando con dei miei amici su Discord solo che appunto non riuscivo ti sta piacendo Shinoko ti sta piacendo è molto bello però capito secondo me il problema è uno di quegli anime che ti dà tipo un sacco tantissimo all'inizio però poi logicamente il resto viene un po' diluito il finale si riprende il finale si riprende ok ok io lo spero cioè conta che tipo veramente mi ero fermato non posso logicamente darti una critica costruttiva benissimo adesso almeno per quello che mi ha dato però però quello che mi ha dato era tipo uno che tipo tipo no ti fa un episodio da un'ora ti dice mio dio è successo questo fuori di testa no e poi logicamente tutti gli altri tipo dici non lo so per me poteva anche finire in proprio in un episodio ok logicamente se ti interessa se ti interessa logicamente capire come 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 c'è la rivincita di tutto quanto la vendetta di acqua e la realizzazione dei sogni si si se ti interessa logicamente il resto dell'anime te lo guardi io al momento lo giro vabbè ho stato l'occasione che non mi aveva tanto preso almeno dal secondo e dal terzo proprio perché nel fare altro quindi nel giocare altro ma vabbè però comunque ad esempio a me piace tantissimo Demon Slayer ok Demon Slayer è un norm inerente a questa cosa però a me onestamente ti giuro ma cosa ce ne importa cioè se ti piace una roba no no vabbè era giusto per dire perché magari molte persone tipo pensano che vabbè Demon Slayer lo guardano tutti è uno di quegli anime che praticamente di tre anime che mi hai detto mi hai detto due che effettivamente sono molto mainstream che sono One Piece Demon Slayer però Shinoko non è così mainstream cioè è famosissimo però comunque non quanto gli altri due che mi hai detto quindi cioè comunque è almeno un genere completamente diverso quindi non è che mi hai detto Demon Slayer One Piece Dragon Ball Black Clover cioè non è che mi hai fatto l'elenco di tutto il battle show o nel desistente nel senso ah no no ma per lo più sai cosa è il fatto è che io in realtà ho iniziato a vedere gli anime in un altro contesto io non è che ti ho iniziato a vedere gli anime perché mi piaceva Dragon Ball perché mi piaceva Naruto no perché io esserti sincero ok è una cosa che mi attanaglia da tutta la vita purtroppo non ci posso far nulla è il fatto che ho iniziato a vedere gli anime perché semplicemente il mio primo anime è stato una CRM e quindi è uno che è caduto in una pozza in Cina che se viene bagnato con l'acqua fredda diventa donna e spesso ha le tette di fuori no giusto per darti un'idea ecco bello no no guarda fidati di me fidati di me Ranma Ranma e GTO ma ora scrivite lì no 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 dai retta a me fra te lo giuro Ranma ranma mezzo e GTO ti svolto la GTO l'ho letto GTO l'ho letto tutto quanto si si sono il manga di GTO però il fatto sai cos'è rispetto però quelli sono magari ok GTO ad esempio non è tanto un ecci è più una storia bella corposa capito si 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 ma era per dare un altro che mi è venuto in mente non era per darti un ecci va bene va bene comunque io Ranma non è un ecci non è un ecci però per dirti non è che fa parte di quel mondo lì cioè comunque i giapponesi hanno comunque sempre cercato anche a livello di manga, anime eccetera di trasporre anche un pochettino quell'aspetto lì no quindi si 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 ci sta fa parte del cioè non è che deve vergognarselo Dio ho iniziato a guardare gli anime perché c'era quella che c'era le tette di fuori eh vabbè pazienza perché questa cosa mi ha in un certo senso ineducato sotto questo aspetto ovvero che per un periodo almeno da quando nella mia più tenere cioè tipo dai 13 ai 16 17 anni addirittura io riuscivo a guardare e mi interessavano solo quelli ok perché perché era perché avevo iniziato con quello mi ero visto una spilza di altri generi simili sei quelli tipo che trovi su youtube tipo top 10 anime del 2021 te si si e are matchy capito che potrebbero interessarti e ci sa ci sono praticamente quelli visti e rivisti eh vabbè vabbè però sei partito da una roba sei partito da una roba specifica però poi un po' ti sei ampliato hai guardato anche infatti fortunatamente per via di live che mi andavo a vedere su twitch per farmi un po' di cultura persone che parlano di manga e quello e quell'altro mi hanno un po' dato l'ispirazione e la motivazione magari di provare anche altri generi e poi sono andati molto bene per me perché mi si è aperto il mondo fortunatamente perché sicuramente ero anche più maturo e capivo meglio magari alcune parti eccetera eccetera che mi ha sicuramente fatto tanto bene vado 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 un po' più veloce perché abbiamo ancora da coprire un paio di cose ti faccio una domanda al quale puoi tranquillamente dirmi non rispondo anzi Zerga fatti gli affari tuoi allora ok situazione o comunque situazione non situazione ma a livello di sentimenti no quindi non ma no e va bene così o no dimmi tu se vuoi parlarne o meno in realtà io il fatto è che sono stato sempre un tipo che si è sempre focalizzato dalla prima superiore allora conta che alle medie ero principalmente purtroppo bullizzato di conseguenza non non ho avuto diciamo tutta quella quell'amore da parte di altre persone di altri amichetti compagni principalmente perché tutto quanto alla classe erano femmine che ridacchiavano su altri questa era la mia classe ai tempi ok femmine tra l'altro quindi non era neanche capito era proprio la cosa più brutta che io mica dici capito mi è i bullizzato da tipo un tizio grosso muscoloso più alto di 3 di 3 meno più psicologica che fisica sì sì era più psicologica esatto che mi ha fatto un po' di danno però e poi alle superiori sono andati in un itis tutti i maschi che esplodono cose esatto quindi diciamo che di avventure in realtà a parte qualcuna che logicamente ho avuto perché fortunatamente è un po' di vista sociale l'avevo alle superiori uscivo con amici ho incontrato persone eccetera eccetera me ne hanno me ne hanno fatti con nove ho avuto le mie avventure il fatto è che dalle superiori ho iniziato veramente a prendere seriamente il mio lavoro a tal punto da non riuscire proprio a da avere tempo per questo perché al momento tranne se non mi capita a caso ma non sono tipo da andarmela a cercare no 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 sei concentrato sulla tua vita e sul tuo lavoro in questo momento e in questo momento l'amore non è una tua priorità sì no per lo più è un fattore capito non credo che sia mai stato una mia priorità il fatto di avere qualcuno a fianco a me perché fortunatamente sono sempre stato molto bene anche da solo ok però principalmente tranne se non mi capita il colpo di fulmine che anche lì è molto complicato eccetera eccetera lì mi farebbe certo mai dire mai però al momento è una domanda capito quello è il fatto sai perché te l'ho chiesto perché appunto essendo che ti vedo molto sul pezzo molto quadrato io credo che per quelli che fanno il nostro lavoro trovare qualcuno a fianco che capisca anche se ormai è molto sdoganato che capisca il nostro lavoro che capisca i tempi che dedichiamo e che non è un 8-9 cioè è molto difficile cioè in molti ormai sia maschi che raga maschi sia femmine hanno ormai la concezione di youtube twitch del lavoro del creator ma in pochi lo hanno vissuto o hanno visto qualcuno farlo veramente e quindi è molto difficile credo per persone soprattutto del tuo successo magari per me è un po' diverso ma avere o trovare qualcuno con il quale condividere ed essere capito cioè che venga rispettato ma non nel senso di ma che rispettato le proprie scelte i propri tempi è difficile è secondo me molto difficile allora secondo me logicamente questa cosa si sta andando sempre di più ovviamente a capire certo dipende logicamente sempre soggettivamente dalla persona ovvio è una mentalità aperta o chiusa come un barattolo dipende sempre da tanti fattori logicamente certo però di fatti io almeno per il momento non mi faccio questi problemi perché vivo benissimo anche senza qualcuno a fianco e oltre questo se mi capita bene se non mi capita amici cominciamo amici invece posso chiedertelo amici ne ho tantissimi tantissimi fortunatamente ne ho tanti ma tanti amici ti ha aiutato youtube cioè tu mi hai detto che alle medie venivi bullizzato anche a me è successo però io al liceo io ho avuto la fase liceale e quindi me li sono dovuti andare un po' a cercare i due o tre buoni e tu invece come al liceo sei sbocciato all'itis sei poi sbocciato o youtube ti ha aiutato a trovare degli amici dimmi allora conta che tipo io fino alla seconda superiore non uscivo ok stavo proprio tutta la giornata dentro su youtube cioè proprio io non prima di allora non sono mai andato a centro a palermo che per uno che abita a palermo è una cosa tipo normalissima che ne so il sapato sera andare in centro come tra l'altro praticamente città però un giorno un mio amico mi ha detto oh fra senti ma ti vedi andare al cilio tra l'altro neanche me l'ha chiesto sono andato io a chiederglielo ma ci andiamo a vedere it perché è riuscito il primo capitolo ok e lui mi ha detto certo andiamo a vederlo però ci vado già con i miei amici ok posso venire certo vini con me e da praticamente lì ho iniziato a incontrare sempre quella committiva però era un periodo che tipo per dirti avevo mille iscritti duemila quindi vabbè poteva essere qualcosa magari anche per i tempi però capito non è tutta quella cifra che fa non lo so a mille e duemila è più la fase che ti prendono per il culo i tuoi amici che il bonus dato che non mi conoscevano non mi prendevano per il culo io bonariamente dico non con cattiveria no 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 ok 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 è quello che intendi però diciamo che non era tutto quel numero da magari capito dire però mi tratta solo per quello no non era no no certo e quegli amici sono rimasti fino ad adesso questa è una grande cosa si sono creati altre amicizie altre se ne sono rotte perché logicamente capisci quando specialmente io lo faccio da ormai 15 anni cioè da quando avevo praticamente 16 anni già ho un po' il tatto nel capire quando una persona se ne sta approfittando meno capito no no è vero vero questa è purtroppo una cosa che capita quindi diciamo che fortunatamente so selezionarmi bene le amicizie di con chi con chi mi sta attorno insomma questo è estremamente estremamente importante ora ti faccio una domanda che spero che tu non avrai mai a che fare con questa domanda seriamente a me a me l'hanno fatta più volte ma spero mi auguro che tu invece non debba mai averla ma dove ti vedi tra 5 anni farei sempre le stesse cose di adesso se non dei contenuti diversi da questi 5 anni sono certo che di chi a te sarà uscito questo poco ma è sicuro e di dove esploderà spero di essere uno dei principali calali che porterà a quel genere perché so come funziona youtube e spero ovviamente di fare qualcosa inerente di tanto insomma inerente a quel gioco però sì principalmente quello che ammiro io è sì fare quello che faccio adesso ma dare anche importanza alla mia personalità che l'ho trascurata in alcuni periodi la trascuro davvero tanto che mi scordo veramente chi sono perché facendo roleplay il personaggio traspare di più di conseguenza magari la personalità arriva solamente in alcuni momenti particolari che possono essere ehi ragazzi è uscito i merchandising andate nel mio sito oppure ehi ragazzi ciao iscrivetevi al canale che è rarissimo anche questo nel dire oppure oppure nei live se ti vedono dal vivo comunque lì è difficile no cioè lì sei te stesso immagino ad esempio il mio amico mi ha detto fra ma senti ma il gestore del mio discord fra senti ma quando è che dobbiamo fare gli amici di discord praticamente un anno che non facciamo niente e io gli ho detto guarda non avrebbe senso fargli adesso perché al momento io non faccio vedere la mia faccia su youtube stavo pensando proprio a iniziare a far vedere la mia faccia a parlare a tornare a parlare un po' col pubblico perché ho fatto praticamente da inizio gennaio anche prima che solo roleplay proprio io iniziavo con la sceneggiatura e finivo con la sceneggiatura non ho capito capito perfettamente quello che intendevi non ho capito e vedi in Italia o no? credo di sì allora non lo so dipende quanto effettivamente dovrà essere importante per il mio lavoro fare in Italia però non ho neanche tutto quel sentimento che qualcuno potrebbe magari avere patriottico per l'Italia anzi ce l'ho più per l'estero io mi piace di più ma per quello che è il tuo profilo da quello che ho capito di te sei uno curioso che vuole fare esperienze tu mi sembri uno che è da girare non è allora io dico io ricordo che mi ricordo sempre che bella Italia però ricordiamoci che c'è un mondo più grande lì fuori che magari ci sta se qualcuno vuole principalmente essere in Italia ci stai perché magari hai un feeling appunto diverso più però diciamo che per quanto riguarda la mia modesta opinione almeno per me per tutte le esperienze che ho fatto nella mia vita sono molto poche proprio per questo preferisco magari guardare vedere più in grande vedere magari qualcosa di più però almeno per il momento sono certo che tra cinque anni probabilmente sarò ancora in Italia sicuramente ok 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 tra quindi chissà io secondo me no secondo me no sei proprio tu io per te io credo io credo io in verità credo che tu o fai un viaggio te la dico proprio così io credo che tu mi dai questa sensazione o fai un viaggio di vacanza o qualcosa ti scatta qualcosa e dici ma sai che c'è io vado qui per un anno vado di là per un altro anno secondo me io ti vedo così sicuramente sbaglio sicuramente sbaglio ma mi dai questa sensazione qui non so perché ma magari avrei ragione magari mi inizierò non lo so inizierò a fare il come si chiama nomadè digitale il nomadè digitale è uno dei bonus è una delle robe si facciamo una scommessa dice la chat ci vediamo qua tra un paio di anni e vediamo da che parte mi vedi non lo so tipo in una giungla sferduto con tipo la frusta di come si chiama di Indiana Jones Indiana Jones esatto sì sì secondo me secondo me sì secondo me sì non abbiamo parlato purtroppo di film perché dai il tuo più preferito veloce l'ultima il test seller come il mio avevamo detto tutte e due avevamo detto tutte e due e genere musicale hardstyle hardstyle perché mi avevi anche raccontato ci sono andato ed è stata l'esperienza più bella di tutta la mia vita figata tranne Amsterdam non mi è piaciuta purtroppo no 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 non è proprio vuota come città non sono riuscita a digerirla bene come città che poi i ragazzi non lo sanno ma io e te eravamo in macchina col produttore degli articoli di Jax ah sì sì vero eh vedete che eravamo lì che parlavano di musica dove parlavamo lui si è girato io ieri ero qua e ci ho fatto vedere Jax e il concerto e noi ma perché sono il produttore te lo ricordi te lo ricordi sì eravamo io te e lui no 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 ah nel senso tipo ah tu eri quello che stava tu sei produttore di Jax sì 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 noi abbiamo fatto sì sì ragazzi sì sì ed è quello comunque parliamo di Interstellar eh Interstellar non abbiamo non abbiamo purtroppo il tempo dipende eh te che poi mi fai partire con Interstellar ti stavo già per far la battuta ogni ogni tic del pianeta e non abbiamo il tempo non abbiamo tempo non abbiamo purtroppo dopo il tempo eh io non lo so se c'è qualcos'altro che ah no guarda c'è un giochino che io facevo e adesso lo facciamo giusto per concludere ora non so se diventerà una prassi o un qualcosa io prendo un manga io lo apro apro una pagina e leggo tu mi dici la pagina e leggo una frase e tu mi dici la prima cosa che ti viene in mente e finiamo così ma perché è numerato? eh? è numerata la pagina? no ma le conto tu devi dire uno io faccio finta di sfogliare non ti preoccupare non sono numerate però arrivo 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 qua oddio ma c'è un ammasso di prese l'info oh eccoci qua prendo il sacro berserk ah beh ok si prendo il sacro berserk dimmi dimmi un numero quella è la deluxe edition numero uno che poi erano comprati più altri che evita dimmi un numero no c'ero pure io eh fai 50 facciamo finta che io sappia contare eh infatti infatti volevo vedere è proprio la tua reazione vediamo 50 ecco trovato ok vediamo se troviamo una frase una frase carina eh ok mettiamo chissà che cosa ti viene mi sono curioso vedrai che anche la tua fine è vicina verrai trascinato all'inferno dalle centinaia di persone che hai ucciso il libro ha parlato cioè proprio perfetto per finire una una parlata la tua fine è vicina oh bello dimmi con questa frase dimmi connessione di idee e chiudiamo così cosa ti viene in mente eh effettivamente ne sto uccidendo tante di persone mi dispiace in cosa in un video in realtà i miei video sono una neurotossina che si che si infila all'interno vabbè lascia stare eh signor Twitch noi stiamo scherzando salutiamo Franco Twitch che ci segue sempre no 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 vabbè dai dai era vabbè però vedi è venuto in mente che i miei video sono molto da The Mirror ci stai eh mi lasciando lasciare quello mamma mia che serie bra bra a me a me ha fatto chiaramente in un'ora non si riesce purtroppo a tirare fuori tutto però secondo me abbiamo chiacchierato ha parlato di secondo me delle cose interessanti che che potevano essere essere fighe se vuoi facciamo qualche minuto se c'è qualcuno della chat che può fare qualche domanda e vediamo se c'è qualcosa interessante se no vediamo se salta fuori qualche domanda tipo tipo spreezer spreezer potrei essere la tua fidanzata spreezer spreezer vediamo un po' ragazzi se volete far generato se volete fare delle domande al momento è il momento ora o mai più taccete per sempre vediamo tu faranno sempre le stesse domande posso essere la tua fidanzata sì Tino tu puoi questa domanda per me è per me questa è per me è per te bravo quale voce quando esce la stagione esatto era proprio la domanda che me la fanno questa domanda me la fanno da quando l'ho fatta la mia serie me la fanno da allora e non purtroppo credo che anche tra vent'anni me la faranno quella domanda quindi non lo sai quando uscirà non abbiamo lo scoop qui non si sa ancora no ma non uscirà perché è una di quelle serie che qua almeno non credo nel breve tempo però è una di quelle serie capito che è impossibile da da creare specialmente con tutti i quali i main pegni che mi sono andato a creare adesso ragazzi ma domande domande belle da metterlo anche un po' in difficoltà perché porti altri video non family friendly eh quello per lo più è un fattore di rispetto verso magari a chi mi guarda però specialmente è anche per non prendere il bollino giallo soprattutto ah beh questa è bella che cosa se potessi cambiare cosa una cosa che se potessi cambiaresti della tua carriera il colore dei capelli no sto scherzando no scherzo ma guarda no in realtà non c'è nulla che mi piacerebbe cambiare perché mi piace già così potrebbe essere forse il fatto di portare anche altri giochi al di fuori di quelli che faccio adesso e magari avere comunque le stesse visualizzazioni potrebbe darsi però logicamente mi sono creato sotto questo punto di vista se dovresti fare una cosa del genere dovrei avere una gradualità nel farlo non posso fare dall'oggi al domani altri giochi perché non hai partecipato alla Big Hardcore chiede Nicola e non so neanche come è quella di Lollo la Big Hardcore sì ho capito è una serie che ha creato non so se è conosciuto per il one console ho sentito ma non non ho presente vedi la cosa divertente è che i nostri mondi ok sono così tanto simili ma così tanto distanti allo stesso momento che tu logicamente non conosci magari che ne so un Dario Moccia di Youtube perché per farti un esempio di popolarità ok per farti un esempio di popolarità ah certo di quell'ambiente ok di quell'ambiente loro sono come questo di questo ambiente qua certo certo chiaro questo è chiaro che ne so Seidone è chiara praticamente sono loro praticamente di Pokémon certo sì sì ho capito capito non lo so la cosa che mi mette un po' tristezza il fatto che ci stanno comunque c'è così tanto c'è così tanto gap tra il content creator di Youtube e il content creator di Twitch perché sono due piattaforme diverse che parlano logicamente a due pubblichi diversi e logicamente molte delle persone che lavorano anche in una piattaforma non conosce magari il leader nel settore dell'altra certo certo no 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 ma è chiaro vabbè ma ragazzi tranne logicamente chi è stato nella leggenda i mates sono i DJ che quelli conoscono tutti vabbè quello ora comunque siamo anche tanti troppi non è come prima che era veramente troppi ovunque le persone non gli importa magari che pensano magari che ci siano sempre le stesse persone su Youtube invece tipo Youtube come piattaforma è una tra quelle che principalmente stanno più cambiamenti tra tutte certo perché per quanto riguarda l'indicizzazione è messa bene di conseguenza magari c'è chi effettivamente esplode di più rispetto a un altro ti faccio ti faccio l'ultima poi ci congediamo se ti dicessero di ricominciare tutto da capo vabbè ma questo ti rispondo già io sì con Youtube lo rifaresti hai appena detto che non cambieresti niente quindi no di ricominciare tutto da capo con Youtube ma dipende quando perché se mi dicessi di farlo adesso no perché è impossibile quasi se mi dicessi di farlo quando l'ho iniziato madonna sì certo farei un sacco di cose meglio e sicuramente sarei ad un livello molto più alto adesso perché logicamente iniziando prima con le conoscenze di adesso vabbè ma comunque tu stai parlando di quasi due milioni di iscritti tu comunque stai parlando da content creator di quasi due milioni di iscritti ah no sì sì no logico però capito mi fa mi fa mi fa mi fa molta mi fa molta impressione ma in senso positivo non in senso negativo vedere come parli del devo arrivare non sono ancora arrivato devo arrivare lì poi guardo i tuoi numeri e li traduco e dico cazzo questo non è arrivato cioè non è che sicuramente non sei o non ti senti però l'industria ti vede ti premia come uno che è arrivato capito quello che intendo sì sì no ma vabbè sono io che proprio non no no ma ci sta lo capisco per me non c'è un tetto purtroppo c'è ma per me non c'è mai il tetto di dove puoi arrivare con i numeri no 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 certo anche perché guardando altre persone ok che fanno molti più numeri rispetto a me allora dico ah allora posso ci sarà sempre qualcuno più bravo ci sarà sempre qualcuno meno bravo no 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 sì 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 ma per la mia filosofia il mio obiettivo è quello di imparare e di fare meglio certo certo fra io direi che per stasera abbiamo abbiamo dato spero che spero che tu ti sia una bella una bella discussione spero che sia stata una bella assolutamente una bella chiacchierata noi comunque ragazzi la la puntata sarà la prima puntata quindi del Zerga Podcast su YouTube quindi la ricaricherò su YouTube e quindi la vedrete intera certo taglio magari due cose io ho giocato a Genshin ragazzi io ho giocato a Genshin però no no gliel'avrei già detto gliel'avrei già detto se no non temete però ti voglio bene non voglio che non voglio che si rovini quindi lasciamolo 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 tranquillo lasciamolo tranquillo grazie mille tene per i 17 quindi io ti ringrazio tantissimo ti auguro chiaramente un in bocca al lupo gigante per tutto il resto poi comunque ci sentiamo soprattutto a te soprattutto a te spero grazie grazie soprattutto a te che ne hai bisogno no no per quello soprattutto a te perché no 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 vabbè però mi ha fatto soprattutto a te creaturu soprattutto a te poverino te piglio l'arancino dai magna esatto va buono bello io vi ringrazio tanto ringrazio tutti andate sulle pagine di Sbrizzer mi raccomando iscrivetevi seguitelo su tutti i suoi social e ci vediamo ciao